Nelle prime ore della mattinata odierne il nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Napoli ha dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di sei soggetti, due già detenuti per altra causa e quattro, tra cui una donna, liberi, emesso dalla sezione GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia. La vicenda che ha portato all'emissione del provvedimento cautelare trae origine dalla denuncia sporta nel mese di ottobre 2017 da un soggetto di origini napoletane, già titolare di attività commerciale, stanziatosi in provincia di Varese. Le attività investigative, coordinate dalla DDA, hanno permesso di contestare agli indagati il reato di estorsione, aggravato dalle modalità mafiose. Tra le persone sottoposte alle indagini figurano D'Amico Salvatore, Agas Opirata, noto esponente dell'omonima famiglia Malavitosa, operante nel quartiere San Giovanni a Teduccio nel comune di Napoli, articolazione del più importante clan Mazzarella, nonché Baldassarre Massimiliano, Agas O Serpente, soggetto ritenuto legato a contesti di camora del comune di Santa Anastasia. Dai fatti contestati emerge che la vittima, nell'anno 2017, trovatosi in gravi difficoltà economiche, si rivolgeva ad un suo ex cognato per avere un prestito in denaro dell'importo di Euro 4.700, con la promessa di restituire l'intero capitale unitamente 1.000 euro a titolo di interessi. Per la restituzione del capitale e degli interessi, il denunciante aveva incaricato il fratello, che nell'eseguire il pagamento per l'estinzione del debito, veniva tratto in inganno da uno dei soggetti, colpiti dal provvedimento e in luogo di consegnare la somma di denaro ai soggetti che avevano provveduto all'erogazione del capitale, ossia Baldassarre Massimiliano, gli consegnava ad Amico Salvatore fino alla montare di Euro 3.900. Per farsi consegnare il denaro ad Amico Salvatore proferiva minacce nei riguardi del fratello del denunciante, intimandogli anche che, se non avesse consegnato la somma di denaro richiesta, avrebbe portato via tutte le autovetture dei suoi parenti su Napoli. I soggetti a questo punto usavano violenza e minacce al fine di rientrare in possesso del prestito in precedenza concesso, oltre alla somma ulteriori Euro 1000 da corrispondere a titolo di interesse.